La signora santa, novantenne, mamma di Roberto Checucci, si affaccia alla finestra, chiama quel suo Roberto che ha visto sparire domenica mattina alle 7 e che poi è stato ucciso con due fendenti al collo, sull'argine dell'Arno a Castelfranco. Il fratello Gilberto è stato ascoltato più volte in queste ore in procura e rientrando a casa. Preferisce non parlare ai nostri microfoni. Un secondo, un secondo, aspetti, aspetti. Cipollazie qua, cipollazie, non lo so. Ma aveva problemi col vicinato, litigavano? Ma non lo so, io siccome sto lontano là, non lo so. E tutte le persone del vicinato lo ricordano, come il camminatore? Sì, sì. E partiva da qui, da casa? E dove andava non lo so. Però lo vedeva sempre camminare? Eh, un bicicletta a camminare. Una persona tipica, lo ricordiamo, che anche quando era in giro non portava né portafogli né documenti, non possedeva telefono cellulare e non portava neanche le chiavi di casa. Le sue giornate erano fatte solo di lunghi cammini. Io l'ho vista sabato mattino, ci siamo scontrati qui. Mi dispiace tanto perché era molto schifo, però salutava sempre, buongiorno. Prima ti guardava, no? Se glielo davi, gentilmente ti rispondeva. E questo? Lui guardava un po', scrutava un po' le persone? No, 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 no. Sì, le guardava se lo volevano salvare. Almeno guardava la persona, ma sempre con un briciolo di sorriso l'aveva sempre. E c'è chi pensa che purtroppo Roberto abbia visto cose che non avrebbe dovuto vedere. Nel camminare, eh? Sì, sotto l'argine magari c'era del movimento strano. Sull'argine io, ora dico la verità, durante un po' non ci vado più neanche perché mi sono messa un attimo paura. Però prima ci andavo, l'unica cosa che vedevo era le impronte dei cinghiali e mi faceva un po' paura. Ora, ma no perché io sono vecchia, se che non c'è il problema non è quello, è proprio perché c'è da avere paura.